Ciao, sono Gabriele e presso la Fondazione ITS Energia Piemonte ho frequentato il corso Building Manager. Oggi sono un perito industriale libero professionista e mi occupo di energie rinnovabili. Il passaggio da studente a libero professionista nel mondo del lavoro è stato naturale e graduale. Naturale perché le competenze trasmesse dai docenti sono state esattamente quelle che poi ho dovuto impiegare nel mondo del lavoro. Graduale grazie invece al periodo di alternanza scuola-lavoro che ci ha permesso per l'appunto di alternare i periodi in classe con quelli nel lavoro. La formazione che ho ricevuto presso la Fondazione ITS ha contribuito in larga scala a gettare delle solide basi per il mio futuro professionale. Difficilmente avrei potuto trovare le competenze che sono state passate dai docenti in un percorso di tipo tradizionale. Intendo proprio sulle materie tecniche specifiche, lo ripeto, si tratta di materie che difficilmente vengono trattate in percorsi di tipo tradizionale. Presso la Fondazione durante il percorso biennale è facile incontrare dei docenti che arrivano direttamente dal mondo del lavoro, perciò con una grande esperienza professionale maturata sul campo. Il mio consiglio è quello di approfittare di questa opportunità cercando il più possibile di acquisire le maggiori competenze e i trucchi del mestiere da questi docenti. Abbiamo delle grandi sfide circa la decarbonizzazione e il risparmio dell'energia che si stanno già giocando. L'Unione fa la forza, cercherò di mettere il mio impegno per essere parte attiva in questa sfida. Il mio augurio è che anche altri ragazzi possano seguire questa strada perché il futuro è adesso.